Cinque macropunti per ciò che concerne la delega alla cultura, uno ma di fondamentale importanza per le politiche scolastiche, il nuovo assessore Federico Lagnia alle idee chiare. 28 anni laureato e ricercatore all'Università di Bologna, Lagnia non si smentisce e con la schiettezza che lo ha contraddistinto nel suo mandato come portavoce del movimento Cambiamo Messina dal Basso, ha esposto oggi nella conferenza stampa di presentazione alla città quelli che saranno i paletti attorno ai quali ruoterà l'attività del suo assessorato. Un assessorato collettivo che si avvarrà della collaborazione di diversi soggetti e che tornerà ad essere politico seguendo i punti del programma che nel 2013 ha portato Renato Corinti alla guida della città. Ringrazio Renato per questa nomina, ha dichiarato Lagnia, per le sue motivazioni, tutti i miei colleghi di giunta per l'accoglienza e per il supporto che so che mi daranno e ovviamente non posso non ringraziare Cambiamo Messina dal Basso, il movimento da cui provengo, comunità politica all'interno della quale sono cresciuto e mi sono fermato. Poi la spiegazione del principio di umiltà attorno al quale ruoterà il suo operato, l'idea di confrontarsi con la base e con le miriade di associazioni esistenti sul territorio in base a quel concetto dal basso che in questi anni ha spinto l'attività della giunta e del movimento. Rivendico il mio ruolo politico e non tecnico, ha poi ribadito il mio assessore, dove per politico intendo il legame forte con quel programma elettorale che rappresenta per questa amministrazione il suo patto con la città. Grazie. Grazie.